I 7-Up stavano in Serie B! Incredibile! Ma che partita ragazzi! È stata una partita che è stata una pausa ai Eagles e hanno fatto entrare una partita incredibile, ma poi correttissima, siamo divertiti, era una partita che poteva finire in qualunque modo. È successo di tutto? Sì, siamo i soliti 7-0, perché se noi non buttiamo tutto alla fine non siamo noi. All'ultima seconda abbiamo sottoperso, poi un lampo di carnella è... Su assist del Magico Signorino! Man of the match! Ma avevo proprio sbagliato! O man of the year, visto che... Man of the year! Man of the year! No, no, tutta la squadra! Onestamente, abbiamo sofferto, abbiamo giocato una partita veramente sentita, siamo veramente morti, però è ancora più emozionante in Serie B in questo modo. Troppo tempo in Serie B ci siamo stati. Bella, siete meritati tutta? Sì, la siamo meritati anche loro, sempre. E' stato brutto perché ce la meritavamo sia noi che loro, ha ragione Michele, però... E' stata una partita che veramente ha dimostrato che ce la potevano meritare tutte tutte. E' stata equilibratissima dall'inizio, sempre, cioè siamo giocati. Siamo veramente contenti. Non c'entrava niente con la partita del campionato. Ricordiamo che arrivati il pareggio degli Eagles nel minuto di recupero. Almeno un minuto. E' l'ultima seconda abbiamo segnato noi. Incredibile, va bene. E' stata una partita in cui siamo andati sotto, abbiamo recuperato, siamo andati sotto. E' stata un'emozione incredibile. Finalmente la prima in Serie B. Non si giocherà più di venerdì, ma di sabato, ragazzi. Quindi mi raccomando, il pubblico è grande occasioni. In Serie B, futuro della squadra, chi ci sarà, chi non ci sarà. No, penso quasi tutti. Sì, quasi. Quasi tutti. C'è una... Forse c'è una piccola defezione, ma vediamo di rimediare. Vabbè dai ragazzi, godetevi la festa, complimenti ancora, ci vediamo in Serie B. Borroso, guarda, mischino, dai. Serie Borroso, sei triste. E' la mia vita, vieni, vieni, vieni. E' la mia vita. Si è fatto male oggi, Borroso. Vabbè. Comunque, siamo diventi e siamo veramente contenti. Vabbè ragazzi, allora appuntamento, se volete, nel Sotto le Stelle, appuntamento alla premiazione. E poi il 15 giugno, se volete, ci sarà la festa Interschool, quindi ci saranno i preparativi, in una villa, poi più avanti avrete tutto, va bene? Ci saranno sicuramente, e la premiazione sarà lì? Premiazione sarà qui in campo dopo la finale, va bene? Il finale è 4 giugno. Il finale è 4 giugno. Vabbè. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao.